lunedì 27 gennaio buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di fano tv al nostro consueto appuntamento del mattino alle 7 in diretta ci ritroviamo per leggere i giornali i titoli delle notizie più importanti e così faremo tra poco sfogliando il resto del carlino e il corea adriatico oggi è una giornata in cui a livello nazionale gli occhi sono puntati ovviamente sul post elezioni regionali come sapete l'emiglia romagna resta rossa mentre i calabresi hanno deciso di votare per il centrodestra che vince insomma questa è la pagina nazionale ma noi andremo subito a vedere quelle locali come dicevo tra un istante ma guardiamo prima il santo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi la chiesa cattolica ricorda sant'angela americi nata a desenzano del garda nel 1474 il sole sorgerà alle 7 31 e tramonterà alle 17 10 la copertina di oggi di trebimeteo.com uno dei siti di meteorologia più importanti sicuramente del d'italia pubblica la foto della penisola con alle prese con questa perturbazione la terza in realtà di questo mese di gennaio una perturbazione che porterà pioggia e nevicate sulle sulle alpi giorni della merla che arriveranno tra poco con vortice polare comunque molto forte questa è la pagina invece della protezione civile delle marche che ci indica per la giornata di oggi un cielo inizialmente nuvoloso con nuvole stratificate con prevalenza di schiarite dalla tarda mattinata dal tardo pomeriggio invece aumento della copertura per l'arrivo di nuvole medio alte stratificate che porteranno nella prima parte della mattinata possibili brevi piovaschi nelle zone interne centro settentrionali e poi nuvolosità invece nel corso della della serata per quanto riguarda la giornata di martedì domani ancora pioggia nell'entroterra in montagna le precipitazioni saranno debole sparse nelle zone interne e occasionali altrove a un po di venti anche domani fino a tempesta per l'instaurarsi del garbino ma questo relativamente alle zone interne e siccome il garbino sappiamo tutti un vento caldo le temperature ovviamente saranno in aumento le condizioni di miglioramento restano per il proseguimento di questa di questa settimana allora cominciamo dai giornali adesso subito vedere i titoli delle notizie come dicevamo più importanti selezionate per questa rassegna stampa il Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro apre con la notizia che aumentano i visitatori anche nei musei di Pesaro la cultura rafforza l'appeal nei musei trend in crescita centro pagina lo sport del lunedì con il Fano che torna all'inferno perché i Granata sono stati sconfitti in casa allo stadio Mancini 2 a 0 dal Gubbio e dunque sprofondano di nuovo in classifica ma c'è la vis Pesaro che invece pareggia si porta a casa un punto la vis Pesaro lotta con Grinta ma è pare 0 a 0 contro il Ravenna la vis che mette alle corde il Ravenna soprattutto nel primo tempo ma non riesce a trovare il guizzo giusto alla fine i Biancorossi si prendono il punto che comunque muove la classifica ma affano i fanesi che ieri avevano deciso di muoversi con l'auto e di passare per il centro storico insomma ieri se la sono se la sono presa soprattutto perché hanno dovuto fare un po' il giro del loco uscendo fuori poi molti che anche all'interno del che vive all'interno del centro storico insomma ha avuto chi lavora anche all'interno del centro storico ieri ha avuto qualche problemino perché il centro storico essendo chiuso al traffico ieri era praticamente deserto un centro blindato è una prima misura contro lo smog contro le polveri sottili e la Lega ha polemizzato dice così invece in realtà c'è più inquinamento perché poi si sono incolonnati tutti con l'automobile sulle vie limitrofe al centro storico poi a San Costanzo invece il Rai di Ladri nelle case rubati soldi e gioielli questa è la pagina invece delle Marche è una pagina che il Carlino apre per tutte le edizioni non c'è il Carlino Pesero questa mattina o di altre province c'è una pagina regionale la titolo è per violenza e rapina arrestati tre bulli a Senigallia notte di follia di studenti milanesi ubriachi hanno aggredito a pugni due coetanee per avere i soldi invece a centro pagina la fotonotizia è per l'operazione salvataggio a Pesero dove si vuole riportare in Italia 70 moto del museo Morbidelli ad Ancona invece raffica di colpi in mezza provincia i ladri fuggono con soldi e gioielli mentre le sardine a Civitanova scendono in piazza in 400 al grido di basta razzismo e antisemitismo mentre fermo verso le elezioni Forza Italia le comunali con una lista ed il nostro simbolo poi anche a Fano qui c'è la pagina che riguarda lo stop alle auto piovono multe ma piovono anche le proteste ed ecco il titolo del Corriere ecologica no domenica al veleno leghe ristoratori così non serve auto incolonnate ai varchi un residente ha minacciato persino di denunciare un operatore per sequestro di persone guardate com'era ieri di Alegramci dove qui solitamente si svolge il carnevale ma è un'altra cosa il blocco per il carnevale perché perlomeno si riempie poi di persone il viale dunque assume un aspetto non certo spettrale come quello che invece era ieri con il blocco delle auto questo invece è un'auto in colonna in uno dei varchi chiusi al traffico qui in fondo vedete sullo sfondo l'arco d'Augusto le auto erano ovviamente obbligate ad uscire qua a destra in direzione dunque della superstrada dunque che cosa dire dire semplicemente c'è da dire che in tanti hanno protestato in tanti hanno protestato molti sono stati gli automisti si sono fermati a chiedere anche spiegazioni non pochi sono stati colti di sorpresa qualcuno addirittura non sapeva del provvedimento sindacale e altri hanno accampato esigenze inderogabili per poter entrare comunque nella zona vietata ricordiamo che le multe prescritte erano piuttosto salate perché vanno da 168 euro a 679 euro la Lega dicevamo quello che si è vissuto ieri dicono quelli della Lega a Fano è stato un vero e proprio capolavoro e non la brutta copia di altri fallimentari esperimenti Seri ha proposto ai Fanesi una giornata di inquinamento per tutti ha deciso di incolonnare il traffico cittadino e quello di attraversamento nelle strade residenziali paralizzandole con lunghe code e polveri sottili moltiplicate e questo genera altri dubbi sulla validità dei dati registrati ieri dalla centralina posta invece all'interno della zona salvaguardata come dire è vero probabilmente ieri i dati della centralina di via Montegrappa per esempio saranno confortanti perché lì non c'era un'automobile ma penso che sia inutile quel dato quando poi nella via più in là invece ce n'erano centinaia e centinaia incolonnate perché appunto c'erano i divieti sulla caserma dei Vigili del Fuoco a Chiaruccia il progetto è stato approvato sono pronti per questa nuova caserma che sorgerà appunto in località Chiaruccia vicino alla superstrada ma anche vicino all'autostrada questa nuova caserma serviranno 2 milioni di fondi ministeriali lavori al via entro l'anno probabilmente i lavori potranno iniziare entro l'anno in corso per terminare nel 2021 ora il comune di Fano dovrà indire la gara di appalto e seguire l'esecuzione dell'intervento andiamo a vedere invece come titola il Carlino di Fano sul blocco stradale di ieri piovano le proteste e le multe raffica di lamentele per la prima ecodomenica varchi sotto pressione alcuni commercianti dicono gli incassi sono calati non di poco 13 sanzioni da 170 euro dunque domenica ecologica bollente con questa pioggia di proteste ieri da parte degli automobilisti sul blocco del traffico disposto dall'amministrazione comunale il nostro obiettivo ha detto il comandante di Vigili a Narita Montagna non erano i verbali non era fare le multe certamente ma non far circolare le auto e gli abitanti di via 4 novembre dicono dovevano prevedere dei permessi non possiamo stare relegati dentro casa e su questo in effetti potrebbero avere anche ragione anzi senza potrebbero hanno ragione adesso conto parlare di centinaia di auto che devono passare che quindi gli si chieda di fare uno sforzo e di non andare in centro ma gli abitanti coloro che devono essere non possono stare dentro casa perché è assurdo comunque concetta per esempio queste persone invece che vedete nella fotografia che sono state intervistate da Anna Marchetti del resto del Carlino qualcuno si lamenta adesso addirittura c'è qualcuno che non sapeva dell'ordinanza ora se vive in Umbria e si ritrova a Fano oppure nell'entroterra e poi arriva a Fano e non sapeva nulla possiamo anche perdonarlo ma chi vive a Fano e non sapeva dell'ordinanza se sei di Fano non potevi non sapere dell'ordinanza insomma lasciamo stare morte su binari invece questa è un'altra notizia sulla quale torna il resto del Carlino il Corriere Adriatico scusate questa mattina la morte di questa bella ragazza Jessica Cuna una morte che ha sconvolto soprattutto gli amici più stretti di questa ragazza di 24 anni che a un certo punto ha sentito tutto il peso della sua vita e ha deciso poco prima delle 4 dell'altra mattina di farla finita si è buttata sotto un treno merci alla stazione di Fano e si è lasciata travolgere e adesso in tanti si chiedono se si poteva fare qualcosa per aiutare questa ragazza potevamo aiutarti questa è la domanda i messaggi sulle reti sociali c'è un post che adesso gli inquirenti stanno passando al setaccio ovviamente le registrazioni delle telecamere di sicurezza di tutta la zona ferroviaria si cercherà di ricostruire gli ultimi istanti della vita di questa 24enne ma c'è un post per esempio che segnala qui il Corriere Adriatico Osvaldo Scatassi sul giornale il sensitivo e il cartomante tra i commenti che sono stati postati si segnala quello di un sensitivo che ha dato il via ad alcune interpretazioni anche se al momento senza riscontro sulla causa scatenante dell'accaduto qualunque cosa vi dica un cartomante prendetela con le pinze e continuate a vivere sotto invece la Giammarioli Cillumini Giammarioli è la presidente dell'ente carnevalesca di Fano Cillumini, Suppovia, il cantante e i valori dell'ente carnevalesca le associazioni in difesa dei diritti delle persone LGBT e xy che sono le associazioni che si battono per i diritti delle lesbiche dei transessuali e tutta compagnia bella hanno scritto alla presidente dell'ente carnevalesca perché evidentemente non c'erano niente da fare e quindi hanno passato un po' di tempo a scrivere allarme al pronto soccorso invece questa è una notizia seria avevano la febbre ma soprattutto paura e due cinesi si sono presentati l'altra sera alle 8 di sera al pronto soccorso di Pesaro dichiarando di avere della febbre cioè di sentirsi male di essere rientrati in Italia da pochi giorni dopo un periodo passato a Pechino a casa loro e quindi è scattato subito il piano di emergenza in ospedale che ha comportato tutta una serie di misure di sicurezza a cominciare dalla protezione da elevare per il personale sanitario ma alla fine l'ospedale che ovviamente a Pesaro si è mobilitato alla fine insomma è arrivata la diagnosi per bocca di Edoardo Berselli il direttore che dice era un'influenza una semplice influenza non c'è alcun allarme anzi i pazienti sono già sfebbrati e credo che nelle prossime ore possano essere dimessi abbiamo escluso qualunque possibile attinenza con l'emergenza esistente in una regione della Cina dove è bene ricordare vive circa un miliardo di persone ma in questo caso a differenza della più temibile SARS non c'è alcuna emergenza a livello mondiale ma restando sempre all'ospedale San Salvatore di Pesaro c'è la notizia poco più sotto di taglio basso sulla pagina del carrino di Pesaro dove protagonista è un medico tra l'altro quando è arrivato al pronto soccorso ha detto sono un medico ho la febbre molto alta e poi si è messo in attesa stiamo parlando di un medico che si chiama Paolo Prosperi e insomma ha lavorato tre anni in servizio al traumatologico dell'ospedale di Cortina insomma al aiuto all'ospedale Rizzoli di Bologna però anche lui pur essendo medico e pur avendo messo tutto questo in premessa è stato quasi 24 ore lì prima che gli trovassero un letto in reparto e dice lui racconta lui oggi quando sono arrivato non c'era nemmeno non c'era nemmeno tanta gente non c'erano nemmeno tante persone andiamo a Civitanova avance ad una ragazzina di 14 anni scattano le indagini questo è il titolo di cronaca sulle pagine interne del quotidiano bolognese minorenne avvicinata da un uomo di mezza età lei però scappa e racconta tutto ai genitori ed è stata presentata una denuncia in caserma l'estraneo, questa persona le avrebbe chiesto di seguirlo in un luogo appartato però lei ha rifiutato diversi elementi al vaglio dei militari per identificare l'autore di questo gesto mentre Cingoli, un 18enne è stato trovato con 14 drosi di hashish ed è stato denunciato altra cronaca sempre da Civitanova una donna che scende in strada a notte fonda chiede aiuto e dice il mio compagno mi ha picchiata ed è arrivata la polizia questa è invece la pagina del Corriere Adriatico di Pesaro dove si approfondisce il titolo d'apertura che abbiamo visto poco fa l'appeal per quanto riguarda la cultura un trend in crescita nei musei positivi sono i dati registrati nel periodo natalizio un effetto che coinvolge anche i siti archeologici l'assessore Vimini del Comune di Pesaro dice nella prossima stradomenica inaugureremo la passerella per la Domus Pedrotti invece la raccolta non si arresta il crowdfunding verso i 50 mila euro il crowdfunding è una raccolta di soldi attraverso la rete, attraverso internet con le somme raccolte in più si potenzierà l'impianto antincendio dell'auditorium mentre sempre restando a Pesaro con la celletta, scusate il market va cancellato Ricci venga al nostro confronto il comitato invita il sindaco all'incontro di febbraio sul consumo di suolo non vogliono che ci siano altre costruzioni la celletta Pesaro Vallefoglia non fa bene a nessuno il segretario provinciale della Lega Doglioni interviene contro l'ipotesi di questa fusione tra il comune di Pesaro e il comune di Vallefoglia che darebbe nell'immaginario parlando un po' di fantascienza darebbe luogo al comune penso più grande della regione ex tribunale si cerca l'intesa arrivando all'accordo bonario la cogesap disponibile ad aprire il comune resta da stabilire l'eventuale l'eventuale danno mentre sotto piazza gremita Pesaro per la benedizione degli animali folla in piazza del popolo in centinaia si sono presentati con i loro animali in compagnia da compagnia tra cui anche asini e pecore mentre sempre dal quotidiano delle marche il Corriere Adriatico due pagine questa mattina sono dedicate all'indagine della procura sull'aeroporto Sanzio di Ancona all'aeroporto di Falconara continua il viaggio nelle fatture e per i servizi inesistenti tra il 2002 e il 2017 che ha aperto la strada alla recente max inchiesta per peculato sulla società gestore del Sanzio per la finanza c'era un sistema collaudato per pilotare appalti adatto a distrarre soldi dalla società e si parla questa mattina di quei 400.000 euro pagati per i led mai installati nel paradiso di Aerdorica l'altra pagina invece sempre su questa su questa vicenda la finta consulenza per il codice etico costata 24.000 euro poi solo 4 dipendenti su 96 hanno fatto un colloquio e buste paga altissime nel dicembre 2017 Massei spiega l'origine di decine di assunzioni dove non c'è mai stato praticamente un filtro e poi ancora da Valefoglia raccontiamo la vita della Segre Liliana Segre la senatrice a vita stasera al centro commerciale delle 100 vetrine c'era un appuntamento voluto da Ampi e Giovani Democratici la proiezione della sua testimonianza agli studenti pesaresi l'odio si combatte con le armi della memoria iniziativa aperta a tutti alle 20 e 30 con il video a cura di Matilde della Fornacia col bordo lo banda senza età aperta anche a chi non suona il presidente della Santi Alessandro Baldelli dice offriamo un corso di orientamento Raffaello Raffaello Aufreiter convitato di pietra ma anche all'unità di squadra proclamata rimossi i meriti dell'ex direttore di Palazzo Ducale e ignorata la rassegna di teatro di corte alla Galleria Nazionale nell'annuncio degli eventi tutte le linee guida del manager austriaco secondo Sgarbi abusivo auto aperte con un piede di porco e furti davanti alla piscina colpiti almeno 5 mezzi nel giro di una sola ora serve la videosorveglianza ma come abbiamo visto nei titoli proprio del Carlino anche delle Marche evidentemente questo fine settimana è stato un fine settimana di trasferte per questi ladri che partono un po' da tutta Italia e poi decidono di fare i furti perché praticamente in tutta la regione quasi ci sono stati sono state segnalazioni di furti come per esempio a San Costanzo così come scrive il Corriere questa mattina razzie dei ladri nelle case trafugati denaro e collane i colpi sono stati messi a segno a San Costanzo in assenza dei proprietari tutto questo addirittura nel tardo pomeriggio poco prima di cena insomma tra il 18 e le 20 nella alla periferia di San Costanzo in via Gramsci strada Mondolfo e anche via 25 Aprile i colpi sono avvenuti all'inizio di questo fine settimana sono stati gli stessi inquilini ad accorgersi di questi furti una volta rientrati in casa dopo aver constatato l'effrazione delle finestre e il disordine nelle stanze messe completamente sul quadro da questi malviventi che hanno rovinato e rovistato dappertutto nelle varie camere alla ricerca soprattutto di soldi ma anche di oggetti di valore oggetti d'oro preziosi insomma in genere ancora dalla rassegna stampa sulla pagina di Senigallia del Corriere picchiate in centro per una sigaretta negata in tre tutti ubriachi contro due pugno in faccia trauma cranico per uno dei ragazzi aggrediti studenti arrestati hanno anche danneggiato un motorino e poi i vandali che seminano danni piante sradicate lanciate nel mirino le fioriere all'esterno di un locale in via San Martino sempre a Senigallia qui ci sono anche le fotografie la fotografia le immagini questi ciclamini che sono stati presi sradicati e buttati lasciati lì sopra un tavolino un tavolino poi la missione torniamo sul resto del Carlino per riportare 70 moto al museo Benelli da riportare in Italia si cerca di ricomprare con i fondi dell'Automobile Club storico i pezzi del museo Morbidelli in possesso di una casa d'asta in inglese pensate un po' allora coinvolti il comune di Pesaro dove si è svolto un summit ora serve un luogo dove ospitare l'eventuale ritorno dei veicoli e pensare che erano a Pesaro e adesso bisogna ricoprarli per riportarli lì Animali Benedetti Piazza Gremita oltre 100 solo cavalli suggestiva la loro parata poi tante altre creature di affezione tanta gente con ovviamente il sacerdote benedicente Gradara trema la terra nessun danno l'epicentro è stato individuato in Romagna Montefiore Conca una magnitudo registrata di 3.0 ragazzi aggrediti in strada a Senigallia arrestati tre bulli sempre dal Carlino prima hanno chiesto una sigaretta degli spiccioli poi sono partiti pugni uno dei feriti è in ospedale con un trauma cranico hanno chiamato i carabinieri la baby gang rintracciata poco lontana ubriachi risse a raffiche di multe per guida pericolosa sempre dalla provincia di Ancona continuano i controlli mirati da parte dell'arma soprattutto per la sicurezza nel fine settimana e questa era l'ultima pagina della rassegna velocemente vi faccio vedere di nuovo le prime due pagine del Carlino e del Corriere questo è il Corriere Adriatico dove l'apertura dell'edizione di Pesaro è per l'aumento dei visitatori nei musei anche pesaresi una cultura che dunque rafforza la PIL che porta gente in città mentre lo Sport con il Fano che torna all'inferno perdono i Granata in casa contro il Gubbio 2 a 0 e dunque sprofondano di nuovo in classifica mentre la Vispesaro che lotta con Grinta ma è pari 0 a 0 contro il Ravenna e poi la Domenica senza auto che scatena proteste e veleni il centro di Fano blindato prima misura anti-smog polemica della Lega così c'è più inquinamento dunque allarme polveri sottili dopo 14 sforamenti prima Domenica Ecologica ma ricordate che ce ne sarà un'altra quindi non dite poi che non siete avvisati che non sapete che ci sono queste Domeniche Ecologiche ce n'è un'altra a meno che non succeda qualche cosa che faccia pensare al Sindaco o alla Giunta di cambiare qualche cosa o di di annullarla ma per il momento è tutto confermato poi c'è il Carnevale altre tre Domeniche insomma una giornata dice però la Lega di inquinamento per tutti perché perché quelli che effettivamente ovviamente non erano avevano così non erano entrati nel centro storico per effetto di questi divieti però si sono incolonnati sulle vie adiacenti e soprattutto sulle vie residenziali intasando tutte le vie attorno e quindi praticamente avendo spostato pare il problema da una parte all'altra e quindi la soluzione qual è non lo so però sicuramente sarebbe quella di lasciare l'auto a casa e di andare con mezzi alternativi questa sarebbe la soluzione ma un problema culturale come spesso accade nel nostro paese e adesso ci salutiamo qua c'è la messa tra poco alle 7.30 in diretta dalla Santa Casa di Loreto poi ci saranno le repliche della rassegna stampa alle 20.30 stasera il telegiornale cui seguirà Primo Cittadino questa sera avremo in studio il sindaco di San Lorenzo in campo Davide Dellonti grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti